Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport Fede, 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 fede Chi c'è qua, solo chi c'ha fede E chi sta là, non ha alcuna fede Ma se fosse per me, se tu me lo concedi Vorrei capir da te, la fede la possiedi Fede sì, ma non sono arbitrale La storia ci insegna che ci facciamo del male Preferisco lo sportivo, lui sì, suo podio sale Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare Calcio, basket, tennis, volley Rugby, lotto, tutti i cori Non importa, sai Muovici, 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 muovici Buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata Di Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport Perché noi vogliamo scavare dietro i campioni Dietro la tecnica, dietro i loro successi E capire l'uomo Questa sera con noi un grande campione Ma lasciatemi prima ringraziare i fast food freestyler La nostra Mimisara Band Scopriamo insieme chi è l'ospite di questa sera Tramite la clip selfie Ciao Federica, ciao a tutti Sono Riccardo Ferri Ex difensore dell'Inter Della Sampdoria e della Nazionale Sono cresciuto nelle giorni dell'Inter Ho fatto tutta la trafilla fino ad arrivare poi alla prima squadra E il mio percorso può essere completato con il mio esordio in Nazionale E tutto il percorso anche con la maglia azzurra Che è stato un percorso a mio avviso emozionante Sono contento di partecipare alla tua trasmissione Federica Quindi sto arrivando in studio Cercherò di farmi la barba perché così sono impresentabile Un abbraccio, a presto Signore e signori Determinato, elegante e sincero è con noi Riccardo Ferri Ciao Federica Buongiorno 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 Grazie, ciao a tutti Ciao Riccardo Ferri Ero veramente impresentabile Ti abbiamo visto in due versioni Ti vediamo in questa versione estremamente elegante Ti abbiamo visto anche in una versione più casalinga Sì Devo dire che Grazie per essere con noi Siamo veramente lusingati e onorati di averti Abbiamo tante cose di cui raccontare Ma prima di tutto vogliamo ricordare In quante squadre hai giocato Quante presenze in Nazionale ci sono state Dici un po' velocemente Allora, ho giocato in due squadre L'Inter e la Sampdoria Gli ultimi due anni alla Sampdoria Ho giocato in Nazionale 45 partite E ho disputato delle competizioni importanti Non dimentico le Olimpiadi dell'84 a Los Angeles in California E poi l'Europeo 88 in Germania E il Mondiale che tutti ricordiamo Il Mondiale 90 con le notti magiche a Roma E adesso approfondiamo tutto con C'è fede, fede Riccardo, comincio subito con La fede nella famiglia Beh, stai toccando già un tasto Che indubbiamente mi emoziona Cioè, per me la famiglia È qualcosa che mi è stato inculcato Appunto da mio padre e mia madre Due persone che facevano del lavoro E della disponibilità nei confronti Dei figli e dei propri doveri La cosa più importante E quindi ci hanno trasmesso questi valori Pur magari parlando poco Perché ad oggi si pensa che Più parli e più riesci a trasmettere No, magari parlare meno e fare di più E devo dire che l'esempio di mio padre e mia madre È una cosa che mi rimarrà dentro per la vita Io ho cercato nel mio piccolo Di inculcare anche i miei figli Quello che io ho imparato da loro E penso, senza peccare di presunzione Per certi versi, di esserci in parte riuscito E proseguiamo Sempre di famiglia parliamo Ma la fede nei tuoi figli Hai due figli maschi Vogliamo dire anche di quanti anni Li vediamo Uno è anche a noi molto conosciuto Marco ora ha 30 anni E Stefano ne ha 24 Questa è l'esperienza che abbiamo fatto a Miami Tutte e tre insieme Io sono rimasto tre anni con loro Perché abbiamo Io ho allestito un'academy di calcio E loro mi hanno seguito Stefano per cercare di trovare La propria strada nello studio E Marco perché voleva fare questa esperienza Conoscendo l'inglese e lo spagnolo molto bene Mi poteva dare una mano Ho visto che ho considerato che Miami Comunque è molto sudamericana Senti, i tuoi figli non sono diventati calciatori Non hanno avuto questa strada Anche se Marco aveva fatto questo tentativo Ma tu sei stato molto pragmatico in questo Ci racconti Sì, Marco aveva tentato la strada del calcio E' un appassionato di calcio ancora tuttora Però mi ricordo che spesso e volentieri Gli piaceva anche andare in discoteca Sin da ragazzino Voleva bruciare un po' le tappe E io spesso e volentieri dicevo Marco se tu vuoi giocare alla domenica Vuoi pretendere un posto alla domenica in campo Devi assolutamente dare il massimo durante la settimana Ma tu non lo stai dando E siamo arrivati a un certo punto Che lui mi chiese Papà tu cosa ne pensi Secondo te io ho il potenziale Per poter arrivare almeno a un buon livello E io gli disse Ti devo rispondere da padre o da tecnico E lui mi disse Rispondimi come vuoi Allora faccio un po' un po' E ho detto Marco secondo me no Perché non ti sta impegnando Come ci si deve impegnare Per cercare di migliorarsi E di arrivare all'obiettivo Si nasce già con una predisposizione Tu hai una leggera predisposizione Però se non ci metti dell'altro Non potrai mai crescere E arrivare all'obiettivo che ti sei prefisso Quindi secondo me è meglio che studi Perché tra l'altro era molto portato allo studio E lì insomma colse delle soddisfazioni Veramente importanti E anche io ne ho avuto modo di poterne beneficiare Mentre l'altro tuo figlio che carriera ha intrapreso? Lui ha provato tutti gli sport del mondo Tra l'altro è molto portato per lo sport in generale Però non ha mai Non ha avuto una passione ben precisa Adesso lui si è laureato a Miami In fisioterapia Sta lavorando in un centro di fisioterapia a Miami Inizierà il master ad aprile Ed è un ragazzo veramente Che ha bruciato anche lui le tappe nello studio Perché siamo andati Io mi ricordo quando siamo arrivati a Miami Siamo andati a scuola In una scuola privata Io e lui E io copiavo chiaramente da lui Perché di inglese sapevo ben poco E lui veramente ha bruciato le tappe Perché nel giro di sei mesi Già ha fatto dei test per entrare nell'università Gli ha passati E nel giro di tre anni si è laureato Ha fatto la laurea breve Con l'attestato Poi devi fare un esame di stato Per poter poi operare sulle persone E devo dire che ho visto la passione nei suoi occhi E questo per un genitore È qualcosa veramente di importante I due figli maschi Ma è arrivata anche la femmina Stefania Stefania è una bambina Che abbiamo adottato Quando aveva tre anni E la vediamo È stupenda È bellissima Abbiamo adottato Io e la mia esmoglie Abbiamo adottato Quando aveva tre anni Io collaboravo con una comunità Vicino a Lodi Dove arriva questo pulmino E scendono questi bambini In attesa di adozione In attesa di affido E subito Sia a me che alla mia esmoglie Ci sorprese il suo sorriso Che è ancora uguale E allora lo era uguale Chiaramente Precisamente con questa luce negli occhi E in quel momento Abbiamo deciso poi Di fare tutte le pratiche Per poter portare a termine Una cosa che All'inizio poteva essere Una cosa gigantesca da affrontare Ma alla fine Come dico spesso Sono più le cose Che lei è riuscito a dare a noi Che quelle che noi siamo riusciti a dare a lei Perché una bambina E una ex bambina Perché ormai ha vent'anni Sì Rimane sempre la tua bambina È una ragazza È una bambina straordinaria Dal punto di vista Morale Di valori Io Quando sono con lei È come se fossi In un centro zen Straordinario Riccardo La fede nei tuoi sogni Ovvero Quando eri bambino Volevi fare ardentemente il calciatore O avresti sognato una carriera diversa Come è andata? Allora Quando ero bambino Stavo guardando Sognavi già Questa immagine? No Questa no Non avevo la presunzione di pensare Una cosa del genere Anche perché io penso che sono nato Con una predisposizione al calcio Ma poi ho dovuto lavorare moltissimo Per poter poi arrivare a certi livelli Ero molto determinato Questo sì Determinato per arrivare all'obiettivo Quando poi Sono arrivato all'Inter Avevo 12 anni 12 anni? Sì avevo 12 anni E sono arrivato a Milano Devo dire che da lì in poi Non ho lasciato niente al caso Quando si suol dire Quando tu sei perseverante Dirigente Disposto a rischiare qualcosa Determinato Alla fine magari non arrivi all'obiettivo massimo Ma ci arrivi vicino sicuramente Grazie Riccardo ma in tutte queste situazioni Della tua vita Ti è mai capitato di rimanere Senza respiro? Soprattutto in mondiali Secondo me Dove Roma Ci aveva avvolto un po' In tutto questo senso di responsabilità E quindi quando arrivava All'Inno d'Italia Spesso volentieri Si tratteneva il fiato E devo dire che l'emozione Era veramente tanta E la percepivi in tutto il corpo Che bellezza Bellissimo aneddoto Capiamo come gestire il respiro Ancora meglio con il nostro campione del mondo di apnea Dottore e professore universitario Mike Maric E senza respiro Andiamo Riccardo Ed eccoci qua Riccardo Ferri e Mike Maric Guardate che accoppiata Allora Ti mettiamo alla prova Mike Guarda Fede Io oggi sono un po' emozionato Per due motivi A me fa paura lui Sì Mi metto una certa inquietudine Il professore Devi stare tranquillo Riccardo Anzi Ricky Perché noi abbiamo tanti punti in comune Siamo di Lodi Esatto E poi io mi posso vantare Di essere stato il maestro di tuo figlio Marco Ecco Per la prova ad apnea all'Isola dei Famosi È vero È vero Caramba È vero Allora Visto che Hai parlato di emozioni di fiato Per te oggi Ho scelto una prova estremamente semplice Sì Immagino Parlando di calcio Sì Anche tu Insomma con le palle Ci sai fare È passato tanto tempo Sì È giusto? Benissimo Senza andare nei particolari No no esattamente Sì grazie Allora Questo È uno strumento È uno strumento medico Si chiama Incentivatore diaframmatico Praticamente serve per gli sportivi Per pazienti Che hanno avuto anche dei problemi di salute A stimolare il diaframma Come funziona? Funziona Al contrario di quello immaginiamo Cioè tu devi espirare Utilizzando molto forte il diaframma Dopodiché Inspirare Sollevare Le tre palline Mantenendole sollevate Io ti compri col tutto Prendendoti anche il tempo No mi fa pensiero Ti ringrazio Ma tra compaesani Se non ci diamo una Abbiamo tanti punti in comune Adesso Se non li avevamo È amico Amico Vero amico È un vero amico Allora Butta fuori tutta l'aria Che poi butta Butta fuori Fuori Ispire 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 ancora di più Tre due uno E vai di ispirazione Ragazzi Via col tipo Sulle palline Su 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 È stato bravissimo Devo dire È andata meglio Rispetto a quello che pensavo Sette secondi È andata davvero bene Perché questo è complicatissimo Abbiamo messo in grave difficoltà Più di qualcuno Bravo Sì È stato bravissimo Bravissimo Sette secondi So che potrei fare sicuramente meglio Sarà Ed è il mio piacere Sette del tuo libro Questo è sicuro Questo è sicuro Poi ci confronteremo Lodi Grazie a te Grazie Noi ci rivediamo La prossima settimana Con Mike Marucci Senza respiro Ciao Mike Ci accomodiamo Riccardo E adesso Riccardo Vogliamo rivivere un po' I momenti della tua vita E della tua carriera Lo facciamo tramite Foto ricordo Prima foto Oh Una grande inter Beh qui Diciamo che è stata L'espressione massima Della mia carriera Per quanto riguarda La squadra La squadra di club E quindi l'Inter È stata un'annata Strepitosa Abbiamo iniziato a vincere In maniera ripetuta Sin dall'inizio Ma più che altro Eravamo convinti Di poter raggiungere Un obiettivo All'inizio Quasi impensabile Perché ci confrontavamo Contro delle squadre Sicuramente ben attrezzate Abbiamo delle antagoniste Di assoluto valore Non solo nazionale Ma anche internazionale E qui mi riferisco Al Milan Che era il Milan Di Sacchi Il Milan che vinceva Ovunque Quindi quell'anno Per noi era importante Essere protagonisti In campionato E soprattutto Cogliere Un risultato Che come ho detto prima Era inimmaginabile Correva l'anno? 1988-89 Tu eri una bambina ancora Prossima immagine Oh caspita E qui ti vediamo in campo Con un grande Maradona Sì Devo dire che Insomma Affrontare Maradona Era sicuramente Un'emozione Forte Tu Prima parlavi Della mancanza Del respiro Insomma Quando tu vai affrontare Una Un'icona del calcio Come lui Un talento naturale Come lui Indubiamente Per certi versi Ti devi preparare A tenere il respiro E andare in apnea Usando una metafora Lui ti colpi molto Anche nel suo riscaldamento Sì Una cosa simpatica Da raccontare È che In quella partita Credo Durante il riscaldamento Maradona Si mise appoggiato al muro E davanti a noi Perché ci dividevamo Uno spazio Per il riscaldamento Si mise a paleggiare Con il tendine d'Achille Quindi guardando dietro la palla Tenendo su Allora non esistevano I freestyle Quindi non c'era Questa capacità Di paleggio così naturale A meno che tu Non nascevi con delle doti Naturali Come è nato lui E in quella partita Un'altra cosa Impressionante Giocò per 20 minuti Con le scappe Slacciate completamente Una cosa che Sembra una presa in giro Per chi deve affrontare Un match Ma È una cosa che Ci ha lasciato un po' tutti Un po' basiti Fuoriclasse Al di sopra Di ogni considerazione Il più forte Secondo te Sì Secondo me Il più forte In assoluto Riusciva A trasformare le cose Difficili In cose semplici La cosa naturale Che aveva Era straordinario Perché non cadeva mai Aveva questa fisicità Che era impressionante Cioè Non riuscivi mai Ad abbatterlo E soprattutto Non riuscivi neanche A prenderlo E quello è il problema Perché per abbatterlo Devi anche prenderlo E se lo prendevi Proprio tu da difensore Tra l'altro Quindi Vi siete scontrati Spesso Spesso volentieri Sia nel Napoli Che in nazionale Devi avere sempre L'ausilio Della collaborazione Della squadra Perché da solo Contro due Non c'è niente da fare Prossima foto Ahia Qua è una brutta cosa Anno? 90 Napoli Italia Argentina Italia 90 I famosi notti magici Esatto Semifinali Dai mondiali Questa è l'uscita Di Walter Su una palla Spizzata Diciamo Da Canigia Ed è il gol Dell'Argentina Che porta poi Sul risultato Di 1 a 1 Questa partita poi È finita in rigori Dove noi perdemmo Appunto Lo scontro Con l'Argentina In rigori Quello me lo ricordo Anch'io Purtroppo Questa è stata Una nazionale A mio avviso Indimenticabile Per tanti Perché mi accorgo Anche andando in giro Per strada Viene sempre ricordata Con grande affetto Con grande sentimento Perché è una nazionale Che si identificava Molto nell'allenatore Vicini Era stato lui Diciamo colui Che aveva costruito Questa macchina Quasi perfetta Pensa che in quell'occasione In quel mondiale Prendemmo solo quel gol E fumo eliminati Questo lo dice lungo Sulla grande forza Di questa squadra Prossima immagine Mister Trapattoni Tu hai avuto Un ottimo rapporto Con i tuoi allenatori Questo dimostra Anche la tua grande umiltà E la tua voglia Di metterti Al servizio Della tua squadra Ma con lui C'era un rapporto Ancor più speciale E soprattutto Un aneddoto Che vogliamo raccontare Beh lui Si può dire Che è quell'allenatore Dove spesso si dice Si gioca anche per l'allenatore Beh per lui Si giocava È un personaggio Che veramente Devi conoscerlo Per poterlo apprezzare A 360 gradi Lui è uno Di quelli Che passava Per le camere E spesso volentieri Mimava Le situazioni Che sarebbero successe Il giorno dopo Spostando addirittura I mobili Cioè la cosa Una cosa veramente Spostava i mobili A modi giocatori A modi giocatori A modi giocatori A modi giocatori Perché non c'era lo spazio Per dimostrare Quello che lui In quel momento Voleva dimostrare Ma non si poteva Non volergli bene È una persona Di una Di una umiltà Di una disponibilità Fuori dal normale Grande tra Riccardo Sei una persona Molto energica Ma sappiamo Che gestire Le proprie energie Non è semplice Per dedicarne La quantità giusta Ad ogni cosa Quindi con energia vitale Scopriamo come tu gestisci le tue Energia vitale Egeria vuol dire Energia Ed egeria Illumina Ed ha tutto ciò Che serve Al business A proposito di questo Tu le tue energie Dove le metti Hai un cento per cento Immaginati una torta Questo cento per cento Lo devi completare Attraverso queste voci Famiglia Lavoro Sport Svago E una quinta voce libera Che percentuale Dedichi alla famiglia? Ad ora Chiaramente avendo i fili Molto grandi Quindi Il percentuale Sicuramente Minore rispetto al passato Prima era Sicuramente Vicino al cento per cento Ad oggi Credo Il cinquanta per cento Lavoro Un trenta per cento Siamo a un ottanta per cento Ti rimane un venti per cento Sport Sport E l'altro è? Svago E una voce libera? No Sport E svago Dieci e dieci Come ti svaghi E che sport fai adesso? Allora io ho fatto un po' tutti di sport Adesso Cerco di fare un po' di palestra Un po' di lavoro aerobico Che varia dal nuoto Alla bicicletta O la corsa E svago Mi piace molto viaggiare Ho tanti amici E quindi Ed è un L'amicizia Credo che Man mano che vai avanti negli anni Sia veramente una cosa importante Da coltivare Perché gli amici poi Sono quelli che poi Ti accompagnano Forse Per certi versi Anche di più Forse Dei figli Perché i figli giustamente Prendono la loro strada E prendono Prendono i loro obiettivi Che devono cogliere Quindi gli amici Secondo me È veramente un tesoro Da coltivare E da tenere ben stretto Riccardo Vediamo se Riviviamo Le stesse emozioni Che ti hanno provocato I prossimi brani Con My Music La nostra Mimisara Band Pronta Prima brano ragazzi All these things I can't get used to No matter how I try Just like the more you give The more I want And baby there's no lie Oh no My darling Can't get it over your love babe Girl I don't know I don't know I don't know why Can't get it over your love babe Oh yeah Brava Brava Bravi ragazzi Brava Claudia Bravi Can't get enough Tanta roba Beh mi ricordo le prime pomiciate sul divano Delle discoteche Quindi Ah divanetti delle discoteche Sì sì Ma frequentavo una sola Quindi è stata forse una delle poche volte Che sono andata in discoteca Perché poi iniziando a fare calcio Allora poi non si usava molto Andare in discoteca A parte qualcuno Che era un po' la voce fuori dal coro E questa quindi mi ricorda un po' le emozioni Le prime fidanzatine Questi piccoli Diciamo Questi piccoli sentimenti Che provavo nei confronti Di un'altra persona Prossima canzone Riccardo Noi siamo figli delle stelle Figli della notte che ci gira intorno Noi siamo figli delle stelle Non ci fermeremo mai Per niente al mondo Noi siamo figli delle stelle Senza storia Senza età Ero io il sogno Questa notte figli delle stelle Non ci fermeremo mai Per niente al mondo Noi siamo figli delle stelle Grazie Mi mi sarà bene L'associazione Minuetto Riccardo Alan Sorrenti Figli delle stelle Ebbene questo è un pezzo storico Italiano Che mi ha accompagnato Durante i miei viaggi La patente della macchina A quanti anni l'hai presa la patente? Subito Sì Prendi la macchina Devi avere una C'era il mangiacassette Da quei tempi Quindi si metteva la cassetta E questa era una delle canzoni Che accompagnava Il mio viaggio La cantavi? Sì Sì Anche a me piace molto Sia cantare che ballare Quindi Sì Mi piace molto La prossima volta Ti metteremo alla prova Adesso non esageriamo Dopo la prova delle palline Adesso con calma Devo ancora digerire quella Devi riprendere il fiato Lo so Riccardo Come te la cavi Con il fai da te? Insomma A volte faccio dei disastri Per il rimedio Allora vediamo come te la cavi Con Bricoferre Black & Decker E tra il dire e il fare Andiamo Ed eccoci Riccardo Il nostro spazio Fai da te Tra il dire e il fare Bricoferre Black & Decker Fanno da padroni Avvitatore e trapano Per fare in 60 secondi Il maggior numero di fori E ovviamente Metterci il maggior numero di viti Hai una classifica Immensa Stai dietro di te E la nostra Alessia delle farfalle È ancora in testa Vediamo se ci stupirai o meno La massima sicurezza Quindi ti faccio indossare i guanti E gli occhiali Sì E nel mentre ti chiedo Se sono vere o false queste due Frasi Black & Decker Ha preparato delle versioni Kit promozionali Presenti solo per il periodo natalizio? Sì Vero Vero Il nuovo trapano avvitatore 12 volt di Black & Decker È dotato di batteria 12 volt Che serve anche da Power Bank Vero o falso? Vero Vero per i dispositivi mobili Molto interessante Allora nel mentre tu ti sei preparato Sì Il nostro cronometro è pronto 60 secondi a tua disposizione Sei pronto? Sì Posso prendere in mano Black & Decker Vai sì Vai 3 2 1 Go Vai Riccardo Prima ai fuori Prima ai fuori Prima ai fuori Prima ai fuori Vai vai Dopo con l'avvitatore e le viti Vai vai Forza 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 Hai 60 secondi Sono già 50 Forza Fora Fora più non posso Poi vai di viti Do suggerimenti Vai 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 Riccardo 38 secondi ancora Non sei neanche a metà tempo Vai vai Riccardo Vai Forza 30 secondi a tua disposizione 30 secondi a tua disposizione Bell'era Riccardo Vai 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 Riccardo Ferrari Tra il dire e il fare 10 9 8 7 6 5 4 3 2 uno stop peggio di così non poteva andare allora diciamo che hai fatto un sacco di fori e anche questo però è importante sì mi piace forrare ecco allora uno due tre viti Riccardo ma messe bene però è vero tre viti di qualità l'inquilino sotto di me aspetta ancora i danni che devo ancora pagare dall'anno scorso e allora confermiamo e mettiamo allora tre che poi mi dimentico il numero che non ti voglio mettere qua sotto davvero allora ecco qua diciamo che al momento sei l'ultimo in classifica ma mi piace molto gli ultimi saranno i primi si dice se lo sapevo mi preparavo meglio la prossima volta vieni che abbiamo una sorpresa per te seguimi Riccardo Riccardo Ferri un ospite davvero prezioso solo chi c'ha fede quest'oggi abbiamo scoperto tante particolarità che riguardano anche la tua vita e ti ringraziamo per questo regalo grazie a voi per chi intraprende la tua carriera e anche per i genitori che stanno accanto a figli che vogliono intraprendere una carriera sportiva cosa consigliamo? allora per i ragazzi di coltivare la propria passione senza fermarsi davanti ai primi ostacoli che è quello che indubbiamente succede ad oggi che davanti alle prime difficoltà il ragazzo si ferma grazie Riccardo grazie a voi noi non ti vogliamo mandare a casa a mani vuote perché vogliamo ricordarti di noi in questa tua vita in questo tuo lato umano e quindi ecco qui il nostro Ila Lasciur della Giordania ha realizzato questa rappresentazione di te grazie ecco qua Riccardo Ferri ha solo chi c'ha fede ecco ti splendida Riccardo grazie per essere stato con noi davvero un grande ospite Riccardo Ferri grazie grazie a voi grandissimo ospite un ringraziamento a Riccardo Ferri davvero abbiamo scoperto il lato umano di questo grandissimo campione e chissà chi sarà il protagonista della prossima settimana 2240 Sport Italia per un nuovo appuntamento con solo chi c'ha fede il lato umano dello sport ad aspettarvi ci siamo noi con la nostra Mimì Sarabendi i nostri fast food freestyler e il nostro pubblico mancate solo voi venerdì prossimo Sport Italia 2240 ciao grazie a tutti solo chi c'ha fede solo chi c'ha fede solo chi c'ha fede solo chi c'ha fede Solo chi c'ha fede